Salve, sono Paolo Bacci e vi presento questo profilato Challenger Evel 641. Per convedere le schede con tutte le caratteristiche, lunghezza, chilometri, meccanica, potete vederle sul sito caravambacci.com alla scheda dell'usato di questo Challenger. Ora io vi voglio fare vedere invece l'abitabilità e meglio le caratteristiche esterne. Guardate, il camper è in buone condizioni, queste sono le gomme, la parte esterna, lato sinistro, il paraurti con le plastiche, questo cliente ha questa veranda, voleva avere ombra dalla parte posteriore e quindi ha messo una piccola veranda. Portabici, sensori retromarcia, vedete che sono tutte in ottime condizioni, l'unica cosa che non siamo riusciti a finire sono gli adesivi, probabilmente questo camper è rimasto molto su un lato alla luce del sole molto forte e quindi ha un po' asciuppati adesivi, ma questo è veramente facile nel ripristinare e farvelo vedere in maniera molto molto bella. Guardate le gomme. Ora vi faccio vedere il garage, il garage ora in questo caso ha l'oblò, cioè ora in questo siamo rimasti chiusi per tanto tempo quindi dobbiamo un po' finire questa macchina, però faccio vedere che c'ha il paraurti posteriore, un'aggiunta, poi molto grande, sportello a destra e sportello a sinistra. Dobbiamo sostituire questo oblò sul davanti che ora vi farò vedere. Ecco questa parte qui ci abbiamo già l'oblò, che il cliente è rimasto così per tanto tempo però aveva preso l'oblò, quindi a vostra discrezione di sostituirlo o meno. Allora qui c'ha le caratteristiche, tutta la stoffa è originale, guardate proprio le condizioni, è perfetta perché questo cliente ha sempre avuto molta cura nel ricoprire i sedili, bei contenitori, questo tavolo si abbassa e diventa un grande letto matrimoniale da farsi all'occorrenza, l'altro contenitore, guardate la cura con tutte queste stoffe, come è tutto in perfette condizioni. Poi una bella vasca, tutto il contenitore, guardate come è ben tenuto, tre fuochi, il frigo, e il forno. Qui c'è gli scalini per salire, quindi di facile accesso. Guardate come è grande e come c'ha la turbo vent sopra, quindi come estrattore di aria calda, questo quindi è un bellissimo due posti, due più due, un letto molto comodo posteriormente. Qui c'è il bagno con la zona doccia e spaziosa e abitabile con vari contenitori e anche sotto. Oltre 200 camper nuovi fra nuovi e usati, quindi con grandissima scelta. Un'azienda, la Caravambacci, solida e sicura che vi garantisce l'acquisto certo. Ciao, vi aspetto o presso la nostra esposizione o chiamateci su WhatsApp, che possiamo fare una videochiamata e raccontarvi e vederci bene per spiegarvi il camper e il suo ottimo prezzo. Ciao!